Buongiorno a tutti, sono Francesco Saerio Stacchini e sono un imprenditore nonché un appassionato di vela. Volevo ringraziare pubblicamente Nautica in quattro settimane perché visto il lavoro, visto gli impegni, non avevo molto tempo da dedicare alla patente e una volta conosciuto loro mi hanno agevolato il percorso e non di poco facendomi conseguire la patente entro le 12 miglia a vela, risolvendomi un sacco di problemi e facilitandomi il percorso, quindi consiglio vivamente a tutti quelli che si trovano nella mia stessa posizione di far parte del loro percorso e colgo questa occasione veramente per ringraziarli e per salutare tutti quanti. Un abbraccio!